Direttore Napoli, ci troviamo nel reparto cure termali dell'hotel Lipari di Sciacca Mare. Le cure termali hanno rappresentato anche quest'anno un elemento importante della vostra attività. Sì, un elemento importantissimo. Infatti abbiamo aperto il reparto il 19 aprile con gli esterni e abbiamo avuto un ottimo risultato. Abbiamo registrato in 25 settimane 2.000 persone che hanno fatto le cure di cui tantissima richiesta da parte dei bambini che venivano accompagnati dai loro genitori che facevano le inalazioni. In totale 2.000 curanti di cui 1.500 sono le inalazioni e 500 sono i fanghi. Siamo veramente felici per il territorio. In gran parte sono tutti di Sciacca, c'è tantissima richiesta e credo che il prossimo anno faremo un eccellente risultato perché, ripeto, la richiesta è tanta. Complessivamente, al di là dell'aspetto riguardante le cure termali, come è andata la stagione? La stagione è stata abbastanza positiva. Abbiamo registrato delle presenze importanti e quindi abbiamo superato, credo, la soglia di 280.000 presenze nelle quattro strutture. Dottore, Sciacca guarda sempre di buon grado, naturalmente, ma anche il territorio, alle cure termali. Quali le richieste maggiori e per quali terapie? Allora, intanto la richiesta maggiore è sempre la fangobalneoterapia per l'artrosi, per la popolazione anziana. Per quanto riguarda anche l'eurosolo e l'alorazione, sempre per gli anziani, con la ricetta del medico di base. Però quest'anno il fiore all'occhiello nostro è stato aver creato un aerosol pediatrico che c'era nelle vecchie termine ma da dieci anni non era sfruttato. Praticamente è molto importante l'aerosol pediatrico perché si curano delle patologie che gli anziani non hanno, come le adenoidite e le tonsillite croniche che comportano dei gravi problemi respiratori al bambino. Quante volte le hanno detto durante questi mesi non facevamo le cure termali da quando le termine di Sciacca erano aperte? Un sacco di persone è da tempo perché, dicevo, almeno da dieci anni. Quindi finalmente siete stati capaci di fare e di dare un servizio che prima mancava alla città di Sciacca. Lei come segretaria ha tenuto sotto controllo anche i numeri. Il direttore ha accennato ai numeri principali, a oltre 2.000 prestazioni. Ma si potrebbe fare anche di più? Certo, noi puntiamo sull'anno 21 di iniziare magari la stagione un po' in anticipo per quanto riguarda il termalismo perché le richieste sono tante. Anche in questi ultimi giorni la nostra cittadina punta ancora ad effettuare le cure termali. Speriamo in una stagione un po' più lunga, sia anticipo che posticipo. E per quanto riguarda anche il periodo estivo abbiamo avuto la possibilità, grazie all'azienda, di dare questo servizio luglio-agosto che negli anni passati era chiuso il centro termale. Adesso possiamo lavorare anche d'estate. Grazie a tutti.